Benvenuta nel tuo esilio. Tua madre mi ha detto che devi studiare almeno sei ore al giorno. Pronto? Tesoro, mi raccomando, studia, lo sai papà quanto ci tiene. Amo, ma tu sei sicura di voler fare la pianista da grande? Sì. Mi scusi, può abbassare un po', per favore? Oh, stanotte Vince ci ha dato dentro di nuovo con la musica, eh? A te lui piace. È un animale da palcoscenico. E sai suonare soltanto musica classica, ma anche musica musica. La musica classica è la musica. A me il pianoforte piace, mi protegge, mi perde nella musica, ci scompai. Perché non canti qualcosa di tuo? Lei? Fa schifo. La canzone, dico, me la puoi dire. Devi trovare la tua voce. Io non so se ho qualcosa da dire. Devi cantare, Anita. Sei un'artista che ti piaccia o meno. A te della mia voce e di quello che scrivo non te ne frega un cazzo, è vero? Tu vuoi essere un'artista? Allora ti devi buttare come abbiamo fatto tutti. Perché se non ti butti, se non provi strizza ogni volta che ti affaccio e guardi qui all'abisso, tu non sei un'artista, sei soltanto una che canta bene. E' troppo lamentare, dirsi non ci riesco più. Se scappassi da un mondo che mi guarda, direi a tutta voce come si balla. Il mondo che mi guarda, direi a tutta voce come si balla. Battagliate come si balla. l befat, direi a tutta lo che Sacramento. Grazie everyone, grazie a tutti. Grazie a tutti.